seduta solenne a palazzo del pegaso martedì 27 gennaio per la giornata della memoria aperta dall'intervento del presidente del consiglio regionale della toscana antonio mazzeo che ha definito la portata dei temi legati alla memoria nel particolare momento che stiamo vivendo a seguire le relazioni di ugo caffaz ideatore promotore del treno della memoria e dello storico giovanni gozzini caffaz ha sottolineato che occorre lavorare molto non solo sui fatti ma anche sulle cause che hanno comportato la tragedia e ha ricordato con orgoglio i 20 anni di impegno della regione toscana in tal senso per gozzini il compito degli insegnanti è quello di non fare altarini e di non scendere in celebrazioni dobbiamo fare sempre domande alla storia esortato e a fatto presente come anche sotto regimi totalitari potesse sempre esserci una via d'uscita sono regimi molto nazionalisti però al tempo stesso si arrogano il potere il diritto di dire chi fa parte della nazione e il loro scopo è quello di dividere su criteri politici su criteri razziali su criteri di classe su criteri religiosi chi può farne parte e chi no questa è la natura vera del regime totalitario e questo è possibile soltanto nella acquiescenza della parte di popolazione favorita la lettera che manda al figlio il comandante del campo di auspitz la notte prima di essere giustiziato dice l'errore più grande che ho fatto nella mia vita è stato di credere ciecamente a tutto quello che mi veniva ordinato dall'alto se lo dice lui possiamo dirlo ai nostri ragazzi cioè per noi educatori è un'arma a doppio taglio no perché gli dobbiamo insegnare anche a non avere fiducia preconcetta nei nostri confronti ma sempre a pensare con la loro testa e quindi a criticare quello che noi diciamo se una scuola riesce a fare questo lo diceva già Don Milani è una scuola brava devo dire che la giornata della memoria sta sempre più rappresentando un momento di diffusione promozione di quello che è una cultura della memoria indispensabile perché quello che è accaduto negli anni 45 e quelli che precedettero la fine della seconda guerra mondiale non debba più accadere 47 milioni di morti 6 milioni e mezzo sterminati ebrei omosessuali sinti disinzierti politici la cultura del totalitarismo portò a una malvagità che mai abbiamo avuto nella civiltà umana e il vaccinare il rendere immuni i nostri giovani da quei valori quei disvalori è un elemento essenziale nella nel ruolo nella promozione dei valori che invece costituiscono l'elemento poggiante della nostra costituzione del nostro vivere civile verso i nostri giovani io penso che questo giorno vada ricordato non solo per quello che è stato ma anche attualizzandolo quello che è e che sta accadendo anche in questi giorni quello che accade in bosnia e sotto gli occhi di tutti campi profughi che sono dei veri e propri lager quei piedi che escono dalla neve le persone che non ce la fanno io penso che quello che è accaduto come diceva primo levi può accadere ancora e la memoria e seminare il germe della memoria vuol dire far fiorire far germogliare fiori nuovi fiori di speranza io lancio solo un messaggio alle ragazze e ragazzi toscani non siate mai indifferenti perché quello che è accaduto può accadere di nuovo non voltatevi mai dall'altra parte quando ci sono sopprusi quando ci sono cose che non funzionano mantenete sempre alto l'ideale che ha fatto di questa terra della toscana il luogo in cui davvero si è combattuto contro le tragedie e le barbarie di quel periodo il nostro simbolo che è il nostro pegaso nasce dall'esperienza del comitato di liberazione nazionale e il nostro pegaso è esattamente il motivo per cui oggi noi ricordiamo questa giornata piedi ben saldi nella nostra storia nei nostri valori nelle nostre tradizioni maleali che guardano al futuro per fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più abbiamo il dovere di salvaguardare e di nutrire una memoria la memoria di un fatto tragico fosse il più tragico che ha colpito l'umanità la shoah il male assoluto c'è la dimostrazione di come l'uomo è stato in maniera malvagia capace di mettere la sua intelligenza al servizio della distruzione di altri uomini e credo che siano fatti che debbano essere ricordati che devono essere conosciuti che devono essere tramandati nei confronti dei giovani perché non debbano accadere mai più ascoltare le testimonianze di chi ha vissuto ed è scampato a quegli avvenimenti i pochi che sono tornati da un campo di concentramento come la senatrice Liliana Segre che ha raccontato e racconta nelle sue testimonianze di come le persone entrate lì dentro sono private della dignità prima ancora che della vita diventano un numero dimenticano il loro il loro nome e credo che la Toscana fa bene è sempre stata molto attiva nel custodire questa memoria nel farla vivere e nel tramandarla quest'anno a causa Covid non è stato possibile organizzare il treno della memoria che porta tanti giovani studenti a visitare i campi di concentramento è un'esperienza indimenticabile io l'ho fatta qualche anno fa con tanti giovani e accompagnandoli è un'esperienza che andrebbe veramente fatta a vivere a tanti giovani perché è sicuramente un'esperienza che rappresenta anche un monito per essere attivi e lavorare perché queste cose in futuro non si ripetono e dobbiamo tenere alta la guardia perché rigurgiti di violenza, di odio, di razzismo, di antisemitismo sono ancora presenti qualche giorno fa nella mia città ad Arezzo mentre era in corso da parte di un giornalista Marco Botti una conferenza proprio per ricordare i fatti della Shoah e ricordare la giornata della memoria degli hacker fascisti sono entrati e hanno cercato di infangare e di violentare questo ricordo memoria che deve essere continuamente portata avanti, concretizzata lo dico con forza ci sono in Europa troppi segnali negativi ci sono regurgiti fascisti, nazisti anche in Italia pochi giorni fa, ad esempio nella mia Arezzo nella passeggiata virtuale nei luoghi della tradizione ebraica è stato aggredito il giornalista Marco Botti solo per fare un esempio ma poco tempo fa aveva ricevuto delle aggressioni verbali anche il 103enne Basilio Pompei che riceverà qui in regione Toscana su mia proposta una targa domani alle ore 14.30 verrà a ritirare il figlio ecco Basilio Pompei che a 103 anni dopo essere sopravvissuto ai campi di stermine nazisti ha dovuto addirittura sopportare quelle aggressioni per cui gli dicevano dai vaccino a un altro, te ormai sei anziano puoi andare oltre vergogna, vergogna, queste sono cose che vanno biasimate vanno condannate con la massima determinazione ma è più fascismo, ma è più nazismo l'importanza è quella di fare in modo che le pagine di storia anche quelle più buie non vengono dimenticate con anche le pagine più buie si faccia sempre un confronto ci sia, noi siamo forse le ultime generazioni che hanno la fortuna di poter ascoltare chi quelle pagine, le pagine buie del Novecento le ha vissute in prima persona chi verrà dopo di noi non avrà più la testimonianza diretta di chi ha vissuto quelle immani tragedie e quindi starà a noi dopo fare da testimoni fare da collante tra quello che oggi ascoltiamo abbiamo ascoltato in passato da chi ha vissuto sulla propria pelle quelle tragedie e chi invece, i più giovani, i bambini coloro che domani rappresenteranno il futuro della nostra nazione dovranno ascoltare da noi che siamo i testimoni quindi su di noi pende una responsabilità importantissima quindi è doveroso ricordare quelle pagine di storia benvenga il Consiglio Solenne ci mancherebbe altro che la Toscana non lo facesse è importante nonostante il Covid non fermarsi mai di dimenticare quello che è stato un crimine contro l'umanità il 27 gennaio è una data importante io ho avuto modo di dire che abbiamo il dovere della memoria ognuno di noi è chiamato a fermarsi anche soltanto fosse un minuto fosse soltanto una seduta in questa giornata dobbiamo avere il dovere di fermarsi di percorrere quello che è successo per non dimenticare e l'invito è che questo possa essere fatto in maniera diffusa perché deve essere una luce all'interno delle coscienze di tutti i cittadini in particolar modo dei toscani e soprattutto dei giovani e questo lo stiamo facendo con questo Consiglio cercando di ricordare quello che è avvenuto non dimenticando quanto è successo e soprattutto portando memoria a tantissime vittime innocenti il tempo inevitabilmente ci sta sottraendo i testimoni di quella memoria terribile che ha macchiato l'Europa e direi il mondo intero per quello che è successo e quindi noi adesso abbiamo l'onere e l'onore di portare quella testimonianza che è innanzitutto memoria ma non memoria a fine a se stessa memoria che deve essere poi rielaborata anche nel nostro quotidiano perché ci insegna a riconoscere quei segnali che ci fanno capire che quel tempo può ritornare perché nessuna libertà, nessun diritto si può dire acquisito per sempre ecco cosa ci insegnano questi giorni ecco cosa ci insegnano i testimoni soprattutto riportarlo nella modernità di oggi quando i social, i media, la comunicazione è potentissima e sappiamo bene la comunicazione quanto ha significato nel spargere l'ideologia che sino chiamiamo nazista ma che come ci hanno ricordato oggi il professor Gozzini e Ugo Caffaz ha macchiato inesorabilmente anche la storia italiana di quei decenni In occasione della giornata della memoria il Consiglio regionale della Toscana ha premiato il macellaio in pensione di Pontassieve Basilio Pompei in quanto ex internato militare italiano di 103 anni che nei giorni precedenti era stato insultato sui social dagli haters per aver ricevuto il vaccino anti-covid-19 è sprecato, dovevi lasciarlo ai giovani alcune delle offese ricevute la proposta di conferirgli riconoscimento è partita dal Vice Presidente del Consiglio regionale Marco Casucci della Lega che aveva inviato una lettera al Presidente Antonio Mazzeo che è stata ben accolta La targa per il suo esempio di vita e l'impegno sempre profuso in difesa delle libertà è stata ritirata dal figlio Giuliano e vuole essere un messaggio per tutte le cittadine e i cittadini della Toscana un messaggio per ricordare i 650.000 militari deportati e per testimoniare a Basilio che i terribili e vergognosi attacchi che ha ricevuto sui social all'indomani della sua vaccinazione non rispecchiano i valori e l'identità della nostra regione ha spiegato il Presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo durante la cerimonia di consegna Noi l'abbiamo voluta fortemente come ufficio di Presidenza su indicazione del Vice Presidente Casucci e sono contento che oggi sia qui insieme a noi Giuliano figlio di Basilio per mandare un messaggio un messaggio a tutte le cittadine e i cittadini della Toscana che è quello che è successo in entrambe le sue sfaccettature a Basilio nella sua vita penso al fatto che sia stato deportato Basilio era un militare noi di solito abbiamo e facciamo iniziative soprattutto per ex partigiani o partigiani il segnale che abbiamo voluto dare è ricordare un altro pezzo di quelle terribili atrocità erano circa 650.000 i militari deportati e Basilio in queste settimane nel momento in cui aveva ricevuto a 103 anni la prima vaccinazione mi diceva Giuliano che ieri ha ricevuto anche il richiamo del vaccino ha subito terribili vergognosi attacchi sui social attacchi relativi al fatto che mettevamo a disposizione il vaccino ad un uomo di 103 anni io penso che il diritto alla salute sia un diritto inalienabile sia per chi ha un giorno sia per chi ha 103 anni io sono orgoglioso della scelta della regione toscana di partire dalle persone più fragili dalle persone che soffrono di più e questo è un segnale di attenzione di testimonianza che come Consiglio regionale abbiamo voluto dare e mettere a disposizione mi fa davvero piacere Giuliano sia venuto a ritirarla personalmente ci avrebbe fatto piacere poterla dare a Basilio per ringraziarlo per quello che ha fatto per quello che sta facendo parlando prima mi ha detto che fino a prima dell'inizio di questa terribile pandemia guidavo la macchina era ancora una persona come dire dentro la socialità di Pontassieve purtroppo il Covid come dire lo ha debilitato lo ha debilitato parecchio e vedere quelle frasi quelle parole quell'atteggiamento da parte di tanti cittadini che lo hanno offeso perché è successo questo attraverso la rete in un'istituzione democratica come la nostra non si deve mai sottovalutare perché io dico sempre una cosa che coltivare il seme della memoria ed è non è a caso che abbiamo scelto di dare questa targa oggi nel giorno della memoria coltivare il seme della memoria è il modo migliore per far germogliare i fiori della speranza e questa questa targa è un fiore di speranza che noi mettiamo a disposizione delle cittadine e dei cittadini della Toscana ho risentito lui e gli ho detto babbo ma c'è stato delle contestazioni perché insomma comincia a vedere un po' l'età in avanti la calda di identità le alta cosa dici? ma dicevo sai Giuliano cosa devi dire a chi te lo chiede dico ma dimmelo babbo digli che la mamma dei cretini è sempre incinta e io questo lo riferisco perché è il solito pensiero che ho io poi gli ho chiesto anche io cosa devo dire perché ti è stata conferita una targa vuoi dire qualcosa? e lui mi ha detto guarda ringrazia tutti e poi di anche che io accetto questa targa a nome dei 150 nella baracca sua dei 650.000 deportati dopo che l'8 settembre avevano non avevano aderito alla avevano detto no alla Repubblica Sociale praticamente ha detto guarda anche a nome dei 150 che erano in baracca con me io ringrazio anche al posto loro e poi gli ho detto guarda babbo e oggi è anche il giorno della memoria che cosa cosa vorresti dire ma niente dice vorrei dire soprattutto ai giovani ai ragazzi che questa è una giornata molto importante e che praticamente si ricordino sempre che l'odio non è il pane quotidiano e quindi gli errori che sono stati fatti prima e anche gli orrori insomma non vengano ripetuti ecco questo in definitiva è il riassunto di quello che ci siamo detti anche se diciamo mi sono informato della vita di Basilio e Basilio pur lontano dall'impegno politico in tutta la sua vita ha portato la sua testimonianza alle scuole questo è importante un collegamento così come si può definire nazismo una nuova forma di nazismo distinguere chi può fare o meno il vaccino rispetto all'età questo è nazismo che va combattuto e la gine toscana deve dare dei segnali ringrazio tutto l'ufficio di presidenza il presidente ma tutti per aver accolto questa mia proposta per me è una giornata speciale proprio perché siamo riusciti a dare tutti insieme un bel segnale verso i toscani quello che è stato quello che è 103 anni Basilio Pompei è un emblema di quello che è stato la deportazione nei campi di sterminio e allo stesso tempo un ex partigiano una persona che ha vissuto sulla sua pelle una dimensione di difficoltà della propria libertà ha visto rischiare la propria vita e oggi in questa pandemia a 103 anni è stato uno dei primi ad essere vaccinato e come tale è stato anche offeso deriso e anche questa volta la propria vita è stata messa in discussione questo è un premio che riconosce il senso della libertà della vita ed è un'icona di rispetto in una giornata come quella della memoria che deve farci riflettere portare rispetto a persone come in questo caso che a 103 anni dimostrano quanto fosse importante ieri come oggi il senso della vita approvata l'unanimità dal Consiglio regionale della Toscana una mozione che ha visto come primo firmatario il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e la firma di tutti i capi gruppo che chiede alla Giunta regionale di proseguire a monitorare l'organizzazione inerente alla fornitura delle dosi di vaccino per i cittadini toscani e di attivarsi qualora si registrassero i ritardi rispetto agli accordi stipulati in sede comunitaria in particolare la Giunta è chiamata ad attivarsi nel caso specifico per valutare la concreta possibilità di intraprendere un'azione legale condivisa con altre regioni e governo verso la casa farmaceutica Pfizer-BioNTech in merito ai ritardi alle forniture delle dosi di vaccino previste dagli accordi in sede comunitaria un'iniziativa più che giusta lo dico da settimane tutto questo però rendiamoci conto chi può contestare Pfizer è lo Stato perché i contratti sono assunti dallo Stato che poi i vaccini li porta alle regioni e da qui vengono somministrati io ho dato fin dall'inizio forte solidarietà al commissario Alcuri e al governo nelle azioni che possono essere intraprese proprio sul piano dei vaccini e della loro fornitura sono convinto che sarà molto importante in futuro avere quella capacità anche di realizzare da soli in Italia i vaccini perché vediamo che in queste situazioni di emergenza in una situazione così delicata o le cose le fai da solo o altrimenti ti trovi in questa situazione di dipendenza da altri con gli inevitabili contraccolpi che vanno sulla salute pubblica nazionale come in questo caso la diminuzione dei vaccini Pfizer una cosa la voglio sottolineare fin quando i vaccini sono arrivati la Toscana è sempre stata ogni giorno prima o seconda o terza ma insomma sulla base degli indicatori che tutti conoscono è stata regione che ha avuto una capacità organizzativa di somministrare i vaccini che ci porta oggi ad avere 75 mila persone vaccinate con ciascuna di esse in tempo per avere il richiamo e questo è un grande vanto che possiamo dare alla nostra regione per uscire dalla crisi pandemica che stiamo vivendo e per tornare a vivere la normalità come nel marzo dal marzo come vivevamo prima del marzo dello scorso anno abbiamo solamente due strade da un lato continuare quel lavoro responsabile che è stato fatto in questi mesi consentitemi di ringraziare le cittadine e i cittadini toscani per come hanno vissuto questo periodo quindi distanziamento mascherine lavarsi le mani in continuazione e dall'altro noi dobbiamo mettere in campo tutte le azioni che abbiamo per poter vaccinare nel più breve tempo possibile il maggior numero possibile di cittadini per questo l'idea di una mozione trasversale di tutte le forze politiche affinché si possa intraprendere come regione in accordo con il governo un'azione legale nei confronti di quel soggetto in questo caso Pfizer che non rispetta gli impegni che ha preso insieme a noi noi dobbiamo fare in modo e questo lo chiediamo anche all'Europa ho apprezzato molto le parole della Presidente della Commissione Van der Leyen che diceva con grande chiarezza che i patti vanno rispettati quindi l'impegno che noi oggi abbiamo preso come Consiglio regionale è quello di essere attenti al tema di spingere il governo affinché parta questa azione legale per fare in modo non perché vogliamo metterci contro chi produce ha fatto uno sforzo enorme per trovare il vaccino ma perché vogliamo dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Tostana garantirgli il diritto alla salute è una mozione firmata da tutti i gruppi che invita il governo a porre in essere e in atto tutte quelle misure tutti quei comportamenti e tutte quelle azioni ovviamente ad iniziare da quelle legali perché il comportamento di questa azienda è veramente un comportamento grave che rischia di penalizzare quello che è il bene primario dei cittadini e anche dei toscani ovviamente vale a dire la salute quindi l'auspicio e il sollecito che rivolgiamo è che si faccia tutto in tutte le sedi affinché Pfizer riprenda la fornitura dei vaccini così come si era impegnata a fare ed eventualmente abbia quelle penalità se sono previste possibilità applicare che si merita la sosteniamo la firmeremo però facciamo una proposta ulteriore che secondo noi è ancora più importante utilizzare l'articolo 31 di un trattato ortennazionale l'acronimo si chiama TRIPS che permette l'utilizzo della licenza obbligatoria cioè la possibilità di produrre vaccini ma anche farmaci in casi di emergenze eccezionali da parte di aziende che non sono quelle produttrici in questo caso la Pfizer e questo viene fatto proprio per la situazione di enorme emergenza in cui ci ha gettato anche non soltanto la pandemia ma anche delle aziende delle multinazionali che lo devo ricordare soprattutto a tutti quelli che elogiano la sanità il privato nella sanità loro devono fare interessi di mercato i governi invece devono fare gli interessi della popolazione allora io mi rivolgo ai sovranisti ma anche a quelli che si dichiarano di sinistra questo è il momento di fare una scelta forza facciamo produrre il vaccino alle nostre aziende utilizzando questa possibilità della licenza obbligatoria quindi in pratica rompendo un po' con le regole del resto è stata Pfizer a rompere gli accordi che già erano molto pesanti per il governo contrattuali nei nostri confronti rischiando di creare un problema veramente serio per quanto riguarda quell'immunità di Greggio che si allontana abbiamo sottoscritto l'iniziativa del presidente Mazzeo abbiamo portato anche il nostro contributo volendo sottolineare come in Europa ci siano altri stati non l'Italia che in realtà hanno avuto invece più dosi di quanto contrattate nella prima fase di contrattazione quindi c'è qualcuno che ha avuto più dosi di quelle che aspettavano dagli accordi iniziali e ci sono paesi come l'Italia e nella fattispecie la Toscana che si sentono dire da un'industria farmaceutica straniera che non ci daranno le dosi che avevano garantito di darci quindi la situazione è difficile io spero che la regione toscana ma non solo l'Italia tutta si costituisca in questa azione legale contro Pfizer e quindi l'appoggio di Fratelli d'Italia è inevitabile è una mozione condivisa sottoscritta anche da me insieme al presidente è una mozione che chiede di fare luce fare massima attenzione e velocità che chiede rispetto per gli impegni presi con la nostra regione bene la notizia di oggi dell'arrivo di 29.000 dosi e bene che vengano mantenuti gli impegni serve essere tempestivi essere puntuali rispettare i tempi della fase 1 e serve anteporre alcune esigenze particolari in primis quello degli insegnanti che è una categoria che noi vorremmo vaccinare quanto prima insieme al personale sanitario noi siamo stati primi a denunciare e a chiedere che la regione si costituisse parte civile perché quello che è successo è inaccettabile abbiamo fatto c'è l'Italia il nostro paese il paese membro del G8 uno dei primi paesi contribuenti dell'Unione Europea hanno sottoscritto il nostro governo dei protocolli la cosa che più mi indigna è che né il presidente del Consiglio dei Ministri né il ministro degli esteri nessun ministro ha preso un aereo è andato alla Pfizer a rivendicare quello che legittimamente era stato fatto cioè la sottoscrizione dei contratti non ci bastano le giustificazioni per questo chiederemo abbiamo ottenuto che la regione toscana sia costituita parte civile nei confronti di una impresa di una multinazionale privata che aveva sottoscritto un contratto che quel contratto deve mantenere perché ne va del piano vaccinale quindi si vaccinerà più in ritardo ne va anche della ripresa economica anche perché più tardi si vaccinano le persone più tardi arriverà la ripresa economica per questo noi siamo come dire grati al presidente del Consiglio regionale Mazzio di aver portato in Consiglio regionale una nostra proposta e siamo stati i primi a chiederlo a chiedere Grazie a tutti.